Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda edizione del premio internazionale Ermanno Olmi dedicato ai cortometraggi realizzati da giovani registi che non hanno superato i 30 anni di età. Il premio è promosso dal comune di Bergamo, vedete qui accanto a me l'assessore alla cultura Nadia Ghisalberti, con il supporto organizzativo di FIC, Federazione Italiana Cineforum e di Associazione Bergamo Film Meeting Ollus. Io sono Anna Maria Materazzini di Bergamo Film Meeting, sono qui appunto con l'assessore Ghisalberti. Come potete vedere siamo sul palco dell'auditorium di Piazza della Libertà, praticamente da sole ma in compagnia dei nostri ospiti che ci seguono da casa e abbiamo comunque voluto fare questa serata qui per in qualche modo abitare questo luogo che ci è molto caro. Anche per questa seconda edizione del premio sono arrivati tantissimi lavori da praticamente tutti i paesi del mondo e solo quattro però sono stati selezionati per arrivare in finale e che stasera premieremo. Oltre ai tre premi in denaro quest'anno è stata aggiunta anche una menzione speciale all'opera più significativa inerente il tema del rapporto tra uomo e natura con particolare attenzione al recupero di antichi mestieri e tradizioni lavorative cadute in disuso. I premi sono stati assegnati dalla giuria della seconda edizione del premio Ormanno Olmi che ci sta seguendo a distanza ma è qui con noi e che vi presento. Abbiamo Monica Corbani e Maria Grazia Recanati per il comune di Bergamo, Barbara Rossi per Fitch Federazione Italiana Cineforum, Claudio Santamaria per la famiglia Olmi e Angelo Signorelli per Bergamo Film Meeting. Direi di iniziare questa serata ufficialmente e lascio la parola quindi all'assessore Nadia Ghisalberti. Grazie Anna Maria ti ringrazio di questa presentazione e devo dirvi che sono da una parte contenta perché questa seconda edizione si è potuta portare a termine anche in queste condizioni così difficili ma vedermi forse per la prima volta questa sala davanti a me deserta mi colpisce molto e mi riporta ai temi che dovremmo affrontare di ricostruire quel legame, quella relazione tra il pubblico, il teatro, il museo e il suo pubblico, il cinema e il suo pubblico. Questo è un tema che ci impegnerà nei prossimi mesi perché è il tema della cultura. Sono però contenta che con grande caparbietà e resilienza questa seconda edizione sia portata a termine perché è importante per l'amministrazione che ha dato il via a questo premio che vuol significare in questo momento anche il simbolo della cultura nel suo ruolo di rinascita del nostro paese e di tutta l'Europa. Sono molto contenta di aver saputo che hanno partecipato quasi 100 giovani e giovani under 30 da tutto il mondo. Sono arrivate proposte dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia, dalla Cambogia e da tanti paesi europei. Credo che questo abbia un significato profondo anche per la città di Bergamo perché arrivano a Bergamo idee, sensibilità artistiche diverse e quindi ci rendono più internazionali e questi messaggi, questi registri diversi che leggeremo nei diversi finalisti sono un tema importante e mostrano anche la centralità che poi è il tema di questo premio, dei giovani. Abbiamo voluto con questo premio dare anche un palco alla creatività dei giovani, una visibilità che in altri modi non avrebbero e di questo siamo molto soddisfatti. L'amministrazione si tiene impegnata su questo premio proprio per i motivi che ho detto e il nostro impegno continuerà anche nei prossimi anni. Credo che abbia una grande potenzialità di crescita e conto molto insomma sul fatto che si affermi sempre di più. Io ringrazio tutti i giovani da tutto il mondo che hanno partecipato, ringrazio i finalisti e ricordo anche la menzione speciale che abbiamo voluto quest'anno sui temi dell'ambiente, del rapporto tra uomo e natura che è un tema che anche in questi ultimi mesi ci ha molto interrogato. C'è anche un altro aspetto che mi piace di questo festival che ha avuto il riconoscimento, il patrocinio del comune come Green Fest. È un riconoscimento che diamo al settore culturale, a quei festival, a quelle iniziative che rispettano i criteri minimi ambientali che insieme all'Unione Europea in un progetto europeo il comune di Bergamo ha stabilito e quindi a maggior ragione questo festival è meritorio anche per tutto questo. Grazie al pubblico che ci sta seguendo, grazie alla giuria che ha fatto un ottimo lavoro e grazie a tutti voi. Grazie. Grazie Assessore. Allora questo premio non sarebbe tale senza il supporto e l'amicizia della famiglia Olmi, in particolar modo di Elisabetta Olmi. Anche lei stasera ci sta seguendo da casa a distanza e quindi le lascio la parola. Ciao Francesca! Ciao! Che bell'albero di Natale! Grazie! Prima o poi abbracciamoci! Mi dicono di parlare perché mi sentite. Io sento solo Claudio in tutta questa cosa e mi fa anche molto piacere, anche Francesca. Volevo ringraziarvi tutto perché ci tengo tantissimo a questo premio Ermanno Olmi soprattutto per i giovani sotto i 30 anni e quindi Ermanno teneva tantissimo ai giovani. Infatti c'era una scuola che si chiamava Ipotesi Cinema per cercare di formare un po' i ragazzi e per dedicare il suo tempo ai ragazzi. Quindi è un premio molto sentito tu sempre amato. Quindi vi ringrazio tanto, ringrazio la giuria, ringrazio Claudio che quest'anno dedicato il tempo e procediamo visto che ci sono difficoltà di collegamenti. L'assessore Bergamo! Assessore, ciao! Noi ci conosciamo! Volevo tanto ringraziarti! Ciao Assessore! Ciao Betta! Ciao Betta! Grazie! E anche tutta la giuria, veramente ragazzi. Siete veramente bravi e anche mia mamma ci teneva molto. Purtroppo non ho fatto in tempo a salire ad Asiago perché sennò avrei condiviso con lei il video. Ma anche a lei fa molto piacere. Eccoci qua. Non vi sento, eh? Io continuo a non sentire nulla. Noi ti sentiamo perfettamente. Grazie mille Elisabetta. Direi appunto allora di entrare nel vivo della premiazione. Quindi lascio la parola a Barbara Rossi che in rappresentanza di tutta la giuria assegnerà i premi e leggerà le motivazioni. Prego Barbara. Vediamo se funziona. Allora, menzione speciale della giuria premio Erman Olmi 2020 va a Pulit Sharpenit di Marta Etana. Per la limpidezza narrativa attraverso la quale viene resa la storia di Guo Chungxiang e della sua bottega delle meraviglie. All'interno del Grit Shanghai 1933, tra antichi pallottolieri, libricini inesperanto dalla copertina rossa e gli oggetti più disparati, che consacrono le memorie di Oriente e Occidente filtrate dal sapiente lavoro manuale di Guo. Complimenti, Marta! Si vuoi dire qualcosa, Marta? If you want, you can say something now and I can translate you. Okay. Hello, everybody. Thank you very, very much for this award. For us, it's an honor to be in this award festival and to show what we have discovered through our protagonist Mr. Google I also want to thank everyone who took part in this movie it was personally my first documentary and yeah I let myself be guided by intuition mostly and yes thank you to our schools and to the program Looking China who made it possible for us to do this Avrete già capito comunque Marta ringrazia comunque tutti ringrazia la giuria è un grande onore per lei avere fatto parte appunto di questo concorso e quindi avere questa menzione il suo era il suo primo lavoro effettivamente ed è stato interessantissimo per lei anche tutto quello che ha scoperto tramite il suo protagonista seguendo il suo protagonista il signor Guo e quindi è nel suo primo lavoro si è lasciata guidare soprattutto dall'intuito ed è stato davvero bello quindi ringrazia molto la giuria ringrazia molto anche la scuola che ha fatto e ringrazia molto anche il programma con la CIN di rapporto con la CIN che le ha permesso di fare questo film allora procediamo con l'assimilazione del terzo premio Ervanolmi 2020 che va a Daily Breath di Anna Spaccio per il parco e scabro stile narrativo in grado di restituire attraverso i silenzi il rumore della montagna e gli sguardi di una giovane donna il potente conflitto fra consapevolezza della morte e il desiderio di vita la lettura che la ragazza porta avanti mentre acudisce l'anziana madre scorre in parallelo alla loro esistenza quotidiana riflettendola come in uno specchio grazie wow grazie mille a tutti intanto grazie per essere arrivata fino a qui della bella descrizione del film era proprio quello io con questo cortometraggio ho cercato di distaccarmi un po' da quello che è il metodo classico di fare regista tendo sempre a spiegare tanto a farmi un sacco di paranoi in testa di creare grandi sottotesti e in questo mi sono detta no lascio parlare i personaggi che erano due persone che già un po' conoscevo ma non avevano mai recitato veramente in questo lavoro perché si è dettagli dal suo vecchio stile che cercano di seguire essere loro a vivere questi personaggi lasciare a loro il tempo di appunto di vivere quelle poche situazioni che poi ci sono nel film che si ripetono veramente come una una quotidianità bella stressante faticosa insomma come se fosse un un turbine lento ma un turbine ecco questo grazie 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 Anna secondo premio Ermano Olmi 2020 va Boys Don't Cry di Bobby Farenmuller per l'interessante e originale sperimentazione estetica e testuale nella tradizione del cinema verité in direzione di un superamento del format classico del reality show l'autoironica e anticonformista messa in scena permette ai quattro giovani protagonisti di far emergere le loro pulsioni e i sentimenti più profondi in un'espressione di sé liberatoria e catartica e arriviamo al primo premio Ermano Olmi 2020 che viene attribuito a Egg Shell di Ryan William Harris per l'efficace ritratto di un'adolescenza periferica suburbana segnata da soprafazioni e violenze il contrasto fra il mondo interiore di Joy e quello esterno per lo più ostile viene reso con grande immediatezza narrativa così come il legame non del tutto perduto con il mondo della natura fonte di rigenerazione complimenti complimenti Ryan grazie a tutti mi sentite? sì complimenti grazie a tutti mi fa molto piacere comunque sì quello che voglio dire è che il mio scopo con Egg Shell era per dare voce a tutti i ragazzi un po' come me che hanno vissuto in casa famiglia e cercare di un attimo valorizzare le loro voci cioè i ragazzi che hanno dovuto affrontare l'età adulto molto prima del previsto e quindi mi fa molto piacere che è arrivato un pubblico che l'ha apprezzato tanto e questa cosa mi riempia molto di gioia grazie a tutta la mia troupe Fabrizio la palombara è il mio maestro Elephant per la distribuzione grazie mille ragazzi davvero grazie a te Ryan ti vorrei abbracciare magari un giorno potremo farlo Ryan scusami ma Fabrizio ha fatto la fotografia sì conosci? sì sì ho lavorato con lui ecco mi sembra infatti ma è bravo complimenti Fabrizio è mio maestro sono partito come suo aiuto operatore cinque anni fa e poi abbiamo fatto questo sentito bene complimenti davvero grazie davvero allora complimenti veramente a tutti quanti fra pochissimo potrete vedere i quattro cortometraggi vincitori questa serata si sarebbe dovuta concludere con la proiezione omaggio a Ermano Olmi di Torneranno i Prati cosa che ovviamente in streaming così non non c'è possibile fare ma se volete dopo questa serata potrete collegarvi su Rai Play dove il film è disponibile approfitterei appunto del fatto che Claudia Santamaria è qui con noi protagonista del film per un saluto e farci dire due parole su questo film di Ermano Olmi sul premio insomma ho visto ho visto dei lavori di altissima qualità è stato anche difficile anche non 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 premiarne alcuni che a me erano piaciuti anche però insomma sono stato contento di vedere che c'è una grande sperimentazione anche ho visto delle cose molto interessanti e quindi è stata una bella esperienza partecipare come come giurale per quanto riguarda il film andrà se non siamo collegati col teatro no non c'entra niente perché non verrà proiettato nel teatro giustamente no purtroppo però avranno la possibilità di vederlo online quindi d'accordo ma sul film quanto tempo ho per parlare del film un minuto un minuto allora non si può tante lacune tante emozioni ecco ecco posso dire questo Ermanno la grande capacità di Ermanno era quella di prendere un minuto di una qualsiasi vita di un qualsiasi episodio e riuscire a tirarne fuori una storia interessante e profonda profondissima questa era la capacità di Ermanno prendere un minuto e renderlo universale attraverso il cinema io non ho questa capacità quindi la presentazione del film è già finita in qualche modo però ecco è sempre stato un mio grandissimo sogno quello di lavorare con col grandissimo Ermanno ho avuto questa possibilità ed è stato per noi tutti davvero un grande maestro sia di di umanità ancora prima che come che come grandissimo esempio di poeta lavoratore direttore di attori direttore di anime perché non ti dava delle indicazioni da insegnante di recitazione ma riusciva a farti entrare in una densità diversa riusciva a modificare l'aria intorno agli attori ai personaggi e aveva una sensibilità che io veramente ho visto rarissimamente nella mia vita lo dico davvero ho visto pochissime persone con una sensibilità così estrema da riuscire a leggere davvero dentro ognuno di noi dentro l'animo di noi attori e vedere un uomo di 84 anni in una trincea a meno 20 gradi restare fermo al suo tavolino a guardare i monitor restare lì e a prendersi il freddo insieme a noi è stata un'esperienza che non dimenticherò mai penso che sia stato il set emotivamente e lavorativamente più denso più emotivo che abbia mai vissuto Claudio anche perché vi ha veramente voluto bene a voi vi ha veramente vi amava veramente quindi anche noi lo amiamo ancora e ci sentiamo noi quello che ci lega che lega noi attori abbiamo ancora la chat ci sentiamo sempre e Ermanno chiaramente viene sempre fuori nelle nostre conversazioni ed è questo grande amore che ci ha legati perché sai delle esperienze emotive così forti le fai da bambino e quando sei adulto riuscire a a trovare un legame così forte tra delle persone adulte è molto difficile Ermanno è riuscito a fare questo perché a ognuno di noi ha ha dato la possibilità di toccare qualcosa di intimo dentro di sé Ermanno quello che chiedeva Ermanno dagli attori in fondo era una cosa molto semplice essere lì essere presenti e c'era una frase che per fortuna io non ho mai ricevuto ma che quando la sentivo quando la sentivo dire a qualcuno veniva in brilli dicevo sento che non sei qui diceva e tu dicevi dove sono e gli attori dicevano perché dove mi trovo e con quella frase improvvisamente venivi messo in una crisi che improvvisamente ti portava lì e ti faceva tremare la terra sotto i piedi ecco Ermanno era un regista che cercava di mettere scomodi i suoi attori ma non per avere un controllo o un potere perché la scomodità di un attore anche emotiva lo fa vibrare e quindi quella che ha detto prima la regista di quel corto che non voleva degli attori ecco Ermanno nemmeno voleva degli attori ha preso degli attori e li ha gli ha fatto dimenticare ci ha fatto dimenticare di essere attori e ci ha come dire voleva tirar fuori gli esseri umani voleva davvero che fossimo lì e questa secondo me è una delle delle grandi lezioni che abbiamo imparato da Ermanno potrei parlare di questo film e di questa esperienza con Ermanno per ore quindi da un minuto sono già passato forse a sette otto o dieci grazie sono tutte cose meravigliose io che penso che questo film sia l'opera di un grande poeta che abbia dei piccoli momenti c'è molto da imparare secondo me perché riesce prende un piccolo episodio che apparentemente sembra di passaggio e riesce a dargli tantissimi strati tantissimi livelli di lettura e questo secondo me è una grande lezione anche per dei giovani cineasti perché adesso c'è tanto c'è da sempre c'è sempre stato c'è tanto cinema casuale in cui vengono scritti dialoghi e battute per riempire o che i personaggi debbano fare qualche cosa lui ci ha inchiodati per terra e ha fatto muovere qualcos'altro oltre ai corpi e alle parole è stato la sua grandezza è stata proprio questa con noi che è tutto nel film non c'è una parola sprecata e questo secondo me è un grandissimo esempio di cinema in cui la parola viene pronunciata soltanto se necessaria se strettamente necessaria e ogni inquadratura serve a qualcosa e ogni movimento di macchina serve a un passaggio emotivo a raccontare uno snodo emotivo della storia e secondo me è una grandissima cioè Ermanno con questo film ha lasciato una grandissima testimonianza una grandissima scuola grazie mille per questa presentazione vi ricordo che il film potrete vederlo su Rai Play invece adesso è il momento di vedere i quattro cortometraggi vincitori di questa seconda edizione del premio Ermanno Olmi e allora per prima cosa per ultima cosa anzi ringrazio tutti quanti quindi ringrazio la giuria che ha lavorato con grande passione a questo a questo secondo premio ringrazio Elisabetta Olmi per essere stata con noi in questa serata esserci sempre stata di supporto ringrazio l'assessore Nadia Ghisalberti che è stata qui con me su questo palco seppur in questa condizione un po' strana e particolare ci tengo a ringraziare anche i miei colleghi Diana Cardani e Simone Boglioni che hanno realizzato insieme a me questa serata e niente direi che vi lasciamo ai cortometraggi vincitori quindi non andate via partiranno fra pochissimo grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti